Bene, buonasera agli ascoltatori di Spazio Aperto, una nuova puntata in compagnia di un ospite importante, Pier Giorgio Caria, lo presentiamo subito, noto ricercatore internazionale, esperto ufologo, ma direi anche esperto di esseri umani, adesso ce lo facciamo dire dal nostro caro Pier Giorgio. Prima di dare la parola e di salutare Pier Giorgio Caria, vi consegno la parola al nostro regista per il saluto al Network, prego Ugo. Ti ringrazio Ugo per la parola, ormai è il consueto appuntamento del mercoledì e io come sempre ricordo le varie web radio che collaborano con noi, sono appunto Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modena Noiradio, Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ci sono sempre ovviamente Radio Sajuz, Radio Sajuz classiche che fanno sempre parte del viamento del circuito. Inoltre ci si può seguire sulla nostra pagina Facebook di Radio Sajuz dove la chat è sempre aperta, come anche sul nostro sito al link www.radiosajuz.it e anche lì la chat è sempre aperta. Io ricordo come tutte le volte il nostro media center al www.sajuzmedia.it, come login basta mettere ospite, non c'è bisogno di password e si entra nel mondo di tutti i format che sono passati e che comunque sono tuttora in vigore, per così dire, sul circuito di Radio Sajuz. Quindi come sempre se qualcuno non riesce a seguire il diretto perché si è persa qualche puntata può comunque recuperarla tranquillamente nel nostro media center. Con questo è tutto, ti ripasso la parola Ugo. Grazie Ugo. Bene, allora chi vi parla è Ugo Lombardi, ci salutiamo di nuovo e vi presento il nostro ospite Pier Giorgio Caria. Buonasera Pier Giorgio. Buonasera a voi Ugo. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a voi. Bene, questa sera prima di parlare di ufologia perché qualche domandina tu me la consentirai però Pier Giorgio, non ti sfuggire da questa incombenza. Ecco, vorrei con te trattare un argomento di cui si parla tanto ma forse in pochi riusciamo a comprendere il vero significato di questa formula. Una formula che viene molto facilmente proposta ma credo sia altrettanto facile disattendere. E cioè la formula che sentiamo ma l'abbiamo sentita prima delle votazioni, durante le votazioni ma anche dopo, diciamo che è un'espressione facile nel dialogo della politica ma anche nel dialogo corrente. E cioè ci riferiamo all'affermazione tipo siamo cittadini o popolo sovrano. Ecco, il popolo sovrano è un termine così vasto, così improprio, diamo una definizione ad una massa dai confini imprecisi però ha un potere enorme. Secondo te questa frase avrebbe motivo di esistere così com'è Pier Giorgio? Certo, la frase popolo sovrano ha un suo senso, un suo senso che secondo me trova la sua massima espressione nel più intimo concetto di sovranità, cioè il concetto della sovranità della nostra mente, quindi delle nostre idee e quindi della conoscenza che in noi risiede. Ora questo è un grosso problema, laddove la conoscenza che in noi risiede ci viene fornita da un sistema che tutto persegue tranne che la libertà dell'individuo, quindi sovranità per me uguale libertà. Se vogliamo traslare questo concetto, il concetto di sovranità nell'ambito classico nel quale noi lo abbiamo sempre identificato o meglio dire nel quale sempre c'è stato indicato e c'è i sovrani, i re, i regnanti, il sovrano è colui che addirittura fa le leggi, che governa il popolo, quindi il sovrano è la massima espressione della libertà decisionale, perché ovviamente il sovrano avvoca a sé, grazie alla sua condizione sovrastante su tutto il popolo, il massimo della conoscenza disponibile attraverso la scienza e attraverso comunque gli esperti che in quella specifica situazione possono esistere. Quindi il concetto di sovranità trova una sua base profonda nella reale conoscenza e nella percentuale di verità che ciascun essere umano possiede. Ora, in una società dove il sistema mediatico è in mano a pochissimi gruppi facenti capo ai super ricchi del mondo e sono solo sei, resta molto difficile capire alla persona comune, all'individuo comune quanta sovranità possa gestire in relazione alla conoscenza che gli viene fornita. Se devo valutare questo discorso in base alla realtà della nostra società, dove l'individuo è schiacciato da una serie di situazioni, vede il debito pubblico della quale non ne sa e non ne comprende assolutamente la natura, la genesi e la gestione, ecco quindi che di sovrano al popolo non rimane nulla, cioè di fatto siamo sovrani dei debiti e delle situazioni che ci vengano accollate senza che noi ne comprendiamo la vera natura. Quindi la domanda è, ma ci può essere vera democrazia laddove il popolo non è in grado, non avendone le competenze di fare le vere scelte? L'ultima dimostrazione, la più chiara oltre il debito pubblico, secondo me è il fatto che dopo quattro legislature di cui non abbiamo assolutamente scelto nulla ma ci sono state imposte e non abbiamo avuto assolutamente la capacità di reagire, ecco che andiamo alle urne con una legge elettorale che è più schifosa di quella precedente e che ha tirato fuori un'altra condizione di assoluto stallo, perché i loro signori decidono non per l'interesse del popolo, ma decidono per il loro interesse personale, per cui se questa è l'espressione di sovranità del popolo, sancita dalla Costituzione, io penso che siamo diametralmente all'opposizione del concetto di popolo sovrano. Qui c'è un popolo schiavo, schiacciato, che sta perdendo la propria identità, che sta perdendo il proprio tessuto culturale, la propria eredità culturale, che sta perdendo il tessuto produttivo, stiamo perdendo tutto, in nome di cosa non si è capito bene, perché alla fine io nei numerosi incontri che tengo in giro per l'Italia chiedo alle persone di darmi una spiegazione delle motivazioni profonde del perché l'Italia si trovi in queste condizioni, ma al di là di un generico è perché i governanti sono ladri, però di fatto nell'intima causa e nell'intima natura delle problematiche nessuno sa metterci mano. Quindi la domanda che ripongo io è, ma ci può essere vera sovranità senza vera conoscenza? Esatto, grazie per questo input Pio Giorgio, perché nella tua risposta hai toccato diversi punti, uno dei più importanti è naturalmente quello dell'informazione. Il secondo coma dell'articolo della Costituzione parla di sovranità, quindi, che deve appartenere al popolo. In realtà questa, come dicevi tu prima, molto bene è una presa in giro, perché il popolo ha poche afferenze, ha poche capacità di informazione e quella che arriva magari molto spesso è anche deviata. Quindi il modo di esprimere il suo modo di essere sovrani attraverso un'informazione così ridotta e così coartata, credo che sia ben poca cosa rispetto a quello che il popolo non sa e dovrebbe sapere. Certo, oggi Ugo è stata, non c'è più nelle scuole quella materia che un tempo c'era che si chiama educazione civica, oggi l'italiano medio non ha manco la più pallida idea di cosa ci sia scritto nella Costituzione. Ad esempio, se andiamo all'articolo 3, praticamente dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, eccetera, eccetera e poi dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. Chiedo di nuovo, ma di questo articolo 3 della Costituzione cosa è rimasto laddove lo Stato oggi è colui che perseguita e affonda la condizione economica e sociale dei cittadini? E poi chiedo una seconda cosa, secondo voi che differenza c'è tra cittadino e persona umana? Sono la stessa cosa o nell'ambito del diritto sono due cose differenti? In realtà questa legge elettorale di cui hai parlato è una legge elettorale fatta apposta per non trovare delle soluzioni e mi chiedo, come tu hai fatto ora, chiedendo ai nostri ascoltatori, quale significato abbia avuto fare una legge elettorale che avrebbe frantumato o impedito accordi per una gestione corretta della res pubblica? In realtà quello che dovrebbero fare i politici è quello di analizzare i problemi, di studiarli, di tentare di risolverli o perlomeno di risolverli, qui invece sembra che i politici questa politica i problemi invece ce li dia. Allora le votazioni sono andate come sono andate, ma non voglio parlare di politica, non è il caso che sottragga del tempo. Posso fare un altro ragionamento? Scusami Ugo se ti interrompo. Allora la res pubblica e la politica, io sinceramente queste due signore non le ho mai conosciute, nessuno me le ha mai presentate, non ho mai conosciuto la signora res pubblica e tantomeno ho conosciuto la signora politica, io ho conosciuto solo e vedo solo degli individui, esseri umani come me, come te, maschi e femmine che perseguitano, schiacciano e sfruttano altri esseri umani, quindi ci sono esseri umani che nascondendosi dietro una finzione giuridica chiamata res pubblica o politica, di fatto rubano a man bassa sfruttando il lavoro altrui, quindi a volte noi non ci rendiamo conto che usiamo delle parole che di fatto non significano nulla, io il signor Stato non lo conosco, tantomeno mi hanno mai presentato la signora Equitalia. Ora io chiedo ma è possibile che un corrotto palese o dei corrotti palesi ben presentati nelle notizie dei telegiornali possano alzarsi la mattina e fare le leggi? Ma con quale diritto? Se la legge deve essere la massima espressione della tutela del diritto umano a cui tutti noi abbiamo diritto per il semplice fatto che siamo tutti nati da donna e tutti dobbiamo respirare, bere, mangiare, vestirci, curarci, istruirci eccetera eccetera, mi si spiegasse, io chiedo alle persone perché noi accettiamo che qualcuno sia più importante di fronte alla vita di quanto lo sia io o lo siamo noi, perché la vita di qualcuno debba valere più della nostra laddove poi è provato che questi sono dei delinquenti, quindi il signor Stato non c'è, è una idea fallata, esistono delle persone che dovrebbero avere il compito o che hanno virtualmente il compito di gestire la buona organizzazione, il buon funzionamento della società, ma mi sembra che facciano esattamente l'opposto, poi il res pubblica vuol dire la cosa pubblica. Ora mi spiegate quale sia il concetto di res pubblica e quindi di Stato e quindi di governo laddove noi attraverso truffe di vario genere tipo siamo spinti a privatizzare? Quindi non è più la res pubblica, è la res privata e privata vuol dire tolta, ci stanno privando di ciò che abbiamo prodotto col nostro lavoro decennale dei nostri padri, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni che hanno versato anche il sangue per mettere in piedi questa truffa chiamata Italy Republic of, iscritta alla SEC del 1934-1932, adesso non ricordo. Esiste il concetto di nazione che è un popolo e un territorio ed esiste il concetto di Stato che è una funzione giuridica, quindi noi siamo totalmente ignoranti quando parliamo di diritti e quando parliamo di organizzazioni giuridiche, statali e così via, quindi in una condizione di assoluta ignoranza come oggi il cittadino medio, questi lestofanti possono permettersi di fare il buono e il cattivo tempo e trasformare la res pubblica nostra nella res privata di potentati internazionali grazie a alcuni nostri connazionali che sono degli assoluti corrotti e al quale noi continuiamo stupidamente a chiedere di risolvere il problema che loro stessi stanno creando. Questo è il problema. Infatti questa tua analisi naturalmente coincide esattamente con quello che ci offre la situazione e quindi ci offre un popolo tenuto completamente all'oscuro, perché non solo manca, se sei d'accordo Pier Giorgio, manca l'informazione, ma addirittura c'è la disinformazione. Sì, ma tutto questo, Ugo, esiste perché è l'individuo medio che lo accetta, nessuno è obbligato ad andare a buttare via il proprio tempo e il proprio denaro allo stadio a vedere 22 ignoranti super pagati che tirano calci a una palla e questa diventa una logica di vita esistenziale. Io chiederei a qualsiasi italiano, ma quale valore aggiunto ha portato nella vostra realtà economica, politica, sociale, culturale il fatto di aver vinto o meno uno scudetto, solo una grande masturbazione emozionale per distrarti e portarti lontano dalla comprensione dei veri problemi che noi abbiamo. C'è uno sfogatoio emotivo, una specie di cesso nel quale buttare e scaricare tutta la propria frustrazione e quindi per far sì che non cambi nulla. Ora io non ho niente contro il calcio, io amo lo sport, ma oggi lo sport è sinonimo di manipolazione e di vantaggio del potere, tra l'altro pure truccato, vincono le squadre dei ricchi perché possono permettersi di comprarsi un maggior numero di campioni rispetto alle squadre dei poveracci. Quindi io uno sport che non è più sport ma solo inganno e truffa non mi interessa. E quindi ritorniamo al discorso di sempre, cioè l'ignoranza del popolo e l'ignoranza in cui viene tenuto questo popolo, tanto che la comunità europea, credo si possa dire, tratta la nostra narrazione non in ugual misura così come si comporta con gli altri paesi. Ci sentiamo e forse siamo alla periferia del mondo di questa comunità che di tutto si occupa tranne che dei problemi comunitari. Allora di fronte a questa situazione cosa deve fare l'essere umano? L'essere umano Pier Giorgio è in difficoltà, è in difficoltà perché non ha i riferimenti del proprio Stato, non riconosce come dicevi tu il signor Stato, lo cerca magari non lo trova. Una comunità europea che dovrebbe sovrintendere le funzioni ma anche gestire è un po' meglio, cercare di coordinare quelle che sono le situazioni di ogni nazione, ma questo compito viene credo esercitato molto male o molto poco o per nulla. Il cittadino quindi ha lo sbando, cosa dovrebbe fare il nostro cittadino per tentare di combattere questa situazione? Non smettere di delegare Ugo, allora tu hai detto la comunità europea dovrebbe, mi devi dire dove sta scritto, visto che non lo fanno forse non c'è scritto da nessuna parte che la comunità europea dovrebbe, perché io vedo prima di tutto non esiste nessuna comunità, perché se tu prendi un siciliano, un norvegese, uno di bolzano, uno spagnolo, mi vuoi dire che comunità formano questi tre individui con culture, tradizioni e conoscenze completamente differenti? Allora che comunità è? Una cozzaglia di individui totalmente differenti l'uno dall'altro, non è una comunità, è una, quindi sono trucchi e parole in realtà il cui significato è stato vuotato e noi ne abbiamo perso completamente la valenza, ma qui c'è solo un'aggregazione di convenienze dell'alta finanza progettata ad arte da alcuni potentati per favorire alcune nazioni e queste nazioni le sappiamo bene, sono in primis la Germania che dall'Euro, dalla Euro moneta ne trae tutti i vantaggi a nostro svantaggio, quindi le cose bisogna conoscere, non possiamo andare per luoghi comuni, la comunità europea dovrebbe, lo Stato dovrebbe, noi ci dobbiamo basare sui fatti e i fatti sono che nessuno qui fa il nostro interesse, ma la domanda è, mi volete spiegare nella società dell'interesse cioè capitalista, chi è colui a cui tu delighi il potere della tua vita che farà il tuo interesse? Farà il suo, nella società dell'interesse funziona così, quindi la nostra unica salvezza Ugo è diventare competenti e invece di buttare via il tempo nell'industria del passatempo, cioè dello scarico senza senso del nostro tempo libero, quel poco che ci rimane, noi dovremmo istruirci laddove nessuno lo fa più, ma siccome noi siamo abituati a delegare ad altri la responsabilità della nostra vita e l'unica cosa che sappiamo fare è lamentarci ma non abbiamo assolutamente la vera volontà di cambiare, ecco che il problema non è risolvibile, quindi se io oggi in tutte le mie conferenze chiedo agli individui presenti, perché la persona è la maschera è solo una finzione giuridica, io chiedo agli individui presenti, mi sapete spiegare da dove scaturisce il debito pubblico? Non alza la mano nessuno, forse una o due persone, allora io dico ma cari italiani vi rendete conto che se voi non conoscete la natura e la causa del mostruoso debito pubblico che abbiamo, voi siete, noi siamo dei falliti? E infatti l'Italia sta fallendo, il 50% del tressuto produttivo nazionale è saltato in aria, gli imprenditori e gli operai che perdono il lavoro si suicidano, i giovani laureati se ne vanno all'estero, quindi esportiamo menti e importiamo extracomunitari di cui noi abbiamo partecipato a distruggere le loro terre, ovvio che vengono qui se noi bombardiamo casa loro, ma questo la gente non lo capisce perché è ipnotizzata, è male indirizzata, ma questo le persone lo permettono da un sistema di informazione che è un sistema in realtà di enorme manipolazione della nostra vita e ne stiamo pagando amaramente lo scotto e non ne verremo fuori da questo, non sarà certo la politica a risolvere il problema, ma chi è che pensa realmente che un manipolo di giovanotti possa mettersi di fronte a un potere mostruoso e cambiare le sorti dell'Italia, visto che è legata a doppio filo, al potentato degli Stati Uniti d'America, soprattutto nell'alta finanza, riusciranno? Per riuscirci bisogna avere il coraggio di dare la propria vita, come hanno fatto Falcone e Borsellino, ce l'avranno? Io ho molti dubbi. Esatto, Pier Giorgio, ritorniamo un attimo al concetto di sovranità, noi parliamo di una comunità europea dove si usa una lingua di una nazione che è andata via, la Brexit in realtà è stata una soluzione adottata dal cosiddetto popolo sovrano, in questo caso il popolo però ha deciso l'uscita dell'Inghilterra dalla comunità europea, tu che ne pensi? Io penso che il popolo inglese, sempre ammettendo e verificando che abbia davvero scelto o che non sia stato portato con la manina attraverso un sapientissimo e astuto gioco di contraddizioni a fare quella scelta, dobbiamo vedere a chi conviene questa scelta e poi dovremmo andare a vedere se nella Brexit è contemplato che l'Inghilterra, io questo non lo so, quindi è una domanda che pongo, che l'Inghilterra lascia la sua quota parte della BCE, della Banca Europea e qualcuno mi dovrebbe spiegare come mai un paese non comunitario, cioè che non ha adottato l'Euro sia dentro la dirigenza della BCE, della Banca Centrale Europea, che ci fa l'Inghilterra che si è mantenuta la sua sterlina, quindi noi siamo di fronte a delle situazioni che disconosciamo, chi c'era nel panfilo della regina Elisabetta parcheggiato di fronte a Civitavecchia in acqua internazionale nel 1992 con dei notabili politici e industriali e altri importanti italiani? Che cosa si sono detti? Cosa si dicono la Commissione Trilaterale, il Consiglio per le relazioni estere, il Bilderberg? Che si dicono? È possibile avere una democrazia laddove anche un gruppo di politici o un partito si presenti onestamente di fronte agli elettori? È possibile che senza conoscere queste realtà, questo gruppo di aspiranti politici possano risolvere i problemi dell'Italia? Questa è una bella domanda, cosa sa il cittadino medio della Trilaterale che è stato ricevuto ufficialmente dal nostro Presidente della Repubblica? Cosa ne sa il cittadino medio dei Bilderberg? Cosa ne sa il cittadino medio dell'Aspen Institute? Cosa ne sa il cittadino medio delle superloge come la Three Eyes a cui appartiene Napolitano e altre superloge, la cui esistenza era totalmente sconosciuta fino a che ne ha parlato il massone Gioele Magaldi? Queste sono le domande che ci dobbiamo porre. Il vero potere nel Parlamento sta da un'altra parte. Infatti. Bene, Pier Giorgio, tu sei esperto conoscitore del mondo alieno e quindi inevitabilmente sei un esperto e lo stai dimostrando, un esperto conoscitore dell'essere umano. L'essere umano ha tante di quelle situazioni difettate, tanti di quei difetti che non so se da solo riuscirà ad aggiustarsi. Ma il messaggio che ci giunge dal mondo, diciamo così un po' più in alto, è quello che ci viene dai nostri fratelli dello spazio. Come ci giudicano loro? Come ci vedono? Ci vedono come una cozzaglia disomogenea di individui che non hanno la più pallida idea del perché esistono, del perché si comportano in un certo modo, di dove veramente stia il potere, di quali siano i veri valori, di che cosa sia il vero essere umano, se il vero essere umano è il corpo o quel qualcosa che ci hanno detto i maestri spirituali, ad esempio Gesù Cristo che il vero essere umano è lo spirito e intelligenza. Quali leggi governano lo spirito e intelligenza? Quali leggi governano la nostra uscita dal corpo fisico che tutti chiamiamo morte e che grazie a Dio è uno dei pochi reami dove la legge è uguale per tutti, quindi ricchi, poveri, russi, greci, bianchi, neri, gialli, atei, credenti, miscredenti, tutti alla fine passeremo per quella soglia. Quindi se noi non conosciamo la natura scientifica, non dei credo, delle leggi che governano la nostra reale natura che è soprattutto spirituale, è pure eterna, ma quando mai ci sarà vera politica che possa gestire bene una società laddove anche i potenti sono ignoranti di queste cose oppure se le conoscono le usano al loro vantaggio e ce le tengono nascoste perché noi pedissequamente accettiamo le pseudo verità che ci vengono ammanite da un sistema di informazione che tutto fa tranne che il nostro interesse e tranne che informarci. Quindi è un problema gravissimo, quindi le società extraterrestri, quello che stanno facendo, visitando il nostro mondo attraverso persone da loro scelte, è darci informazione perché l'informazione è ciò che da bambini costruisce la nostra personalità, la nostra personalità è il parametro con la quale poi noi prendiamo le decisioni per gestire la nostra vita, quindi il problema non è risolvibile, oggi la persona comune, cioè l'aggregato di caratteristiche di un essere umano scatturente dall'informazione che ha ricevuto fin da quando era bambino è totalmente in opposizione alla nostra necessità di libertà e di felicità. Quindi per poter riformare un governo prima di tutto si devono riformare gli individui di quella nazione. L'illusione che una classe politica possa fare un buon popolo è assolutamente sciocca, è il buon popolo che fa una buona classe dirigente, non viceversa, questo è il problema. Quindi una massa di individui egoisti, opportunisti, menefreghisti non potrà mai generare un governo di saggi, quindi non c'è soluzione nelle aule parlamentari e lo sperimenteremo amaramente anche questa volta, ma a loro signori non importa, loro ti danno sempre l'illusione di una carota che non raggiungerai mai, quindi ti danno un arco di tempo dove ti viene presentato un nuovo e ricordo che il nuovo era Berlusconi, il nuovo era La Lega, dove sono questo nuovo ha prodotto oggi? Il nuovo era Renzi, che è il nuovo invecchiato più rapidamente che io abbia mai conosciuto, ma il nuovo era Matteo Renzi, che ha prodotto questa mentalità, uno sfaccelo. Adesso abbiamo di nuovo la possibilità di una speranza, ma questa speranza nell'arco di un processo che sarà identico a quello che abbiamo vissuto produrrà nuovamente una delusione, ma io ho una speranza che stavolta Dio ci metterà lo zampino e scombinerà le carte, anzi dal mio punto di vista i potenti del mondo, i cosiddetti illuminati o signori universali o chiamateli come volete, ma hanno i giorni contati, sono alla canna del gas, perché Dio si è stancato di questa situazione, quindi si prenderà i suoi e il resto lo riciclerà, questo accadrà. E sono preoccupati i signori del mondo, ricordo che Rothschild abbastanza di recenti ha detto, parlando di economia, navighiamo in acque sconosciute e se lo dicono i padroni del denaro, credo che dobbiamo ascoltare. Questo concetto se sei disponibile lo sviluppiamo fra un po', non devi scappare perché ce lo devi dire, questo fatto ce lo devi dire bene, ma ti volevo aggiungere ai nostri ascoltatori che l'essere umano quando è piccolino dorme quando ha sonno e mangia quando ha fame, poi diciamo queste necessità vengono modulate dall'ambiente esterno, un ambiente che impone il sonno, impone la fame o la sottrai a seconda di quelle che sono le necessità, quindi dovrebbe essere rimodulata un concetto dell'ambiente esterno che viene anche, credo influenzato da tutto il congegno di apparati virali e genetici che sono all'interno dei batteri e dei virus che comunque riusciamo a introdurre nel nostro corpo. È l'ambiente esterno che deve essere modificato. Assolutamente sì, deve essere modificato l'ambiente esterno o laddove siamo troppo pochi per ottenere questo risultato, dobbiamo tutelare il nostro ambiente interno per mantenerlo in equilibrio laddove c'è un'aggressione squilibratrice dall'esterno. Ma questo richiede delle conoscenze, richiede delle competenze, per cui oggi il problema è riuscire a trovare chi ci può fornire le reali competenze e chi ci può fornire le reali conoscenze. Io ho visto ad esempio pochi giorni fa il signor Montanari e sua moglie hanno subito un'irruzione della guardia di finanza che ha sequestrato loro tutto per una denuncia non si capisce bene da parte di chi, ma questi signori lavoravano per dire la verità, rischiavano in prima persona per dire la verità sulla reale natura e contenuto dei vaccini. Ma chi se ne è interessato? Il signor Montanari è quattro poveracci, perché la maggior parte pedissequamente si è adattata a una decisione presa dalla signora Lorenzin. Ora io chiederei a qualsiasi persona che sia dotata di un minimo di criterio e di razzicino, ma secondo voi la Lorenzin non ci dormiva la notte, visto anche che non è un medico e non è uno scienziato e se ne è uscita con quella orribile frase che dimostra tutta la sua ignoranza e competenza scientifica che i microbi saltano, saltellano. Ma dove vive sta signora? Ma non lo sa che il nostro corpo è strapieno di vita batterica, non abbiamo la flora batterica intestinale che se va male non riusciamo a digerire, quindi sta signora di che cavolo si è nutrita? Di vera scienza? Ma se una signora ignorante, cioè che ignora la conoscenza anche del proprio corpo, trova facile aggregazione in una società di individui, anche essi totalmente ignoranti e che si fanno spaventare dalla risibile teoria dell'epidemia di morbillo, quando le malattie esentematiche hanno da sempre fatto parte della nostra condizione di bambini. Tu sei un medico, quindi non c'è nessuna epidemia, come non c'erano le centinaia di morti cianciati da questa signora in Inghilterra, tutte balle. Certo, ma infatti questi 4,5 kg di batteri che abbiamo all'interno, come ti dicevi giustamente, non c'entra niente il saltellare, ma oltre che occuparsi di produrre complessi vitaminici, probabilmente agiscono anche con il loro codice genetico, sembra che ci sia anche un'influenza dell'azione di questi batteri sul comportamento dell'essere umano, ci sono dei lavori su questo argomento. Ma assolutamente sì Ugo, ma c'è molto altro in relazione alla medicina, oggi noi abbiamo la conoscenza grazie alla fisica che il cuore genera un campo elettromagnetico potentissimo, mille volte elettricamente più potente del campo elettromagnetico generato dal cervello e 5.000 volte a livello magnetico il campo energetico del cuore. Dalla energia di questo campo discende la salute, discende il buon umore, discende la nostra vitalità, quindi come noi possiamo recuperare una vera salute e un vero tono ottimistico laddove non sappiamo nulla di tutto questo o pochissimo ed è stato misurato. Il campo magnetico umano va da 1,5 a 1,9 a 9,5 se non erro megahertz. Ormai le studiamo queste cose e le frequenze di questa energia di cui noi siamo fatti arriva fino alle soglie dell'energia della luce, della frequenza della luce. Ma che ne sappiamo noi di queste cose? Io mi devo ascoltare una Lorenzing e mi dice che i batteri saltellano? Ma per favore, poi micro io che cavolo ha detto. Infatti abbiamo avuto un'influenza nonostante la massiccia azione dei cosiddetti vaccini. Va bene. Pier Giorgio, io volevo riprendere il discorso perché con te è interessantissimo parlare soprattutto e anche di questo. Parlavi prima di un messaggio dei nostri fratelli extraterrestri. Ci vuoi dire qualcosa di più, per favore? Sì, il messaggio, cioè l'informazione che ci stanno dando, la conoscenza che ci stanno trasmettendo ormai da 70 anni questi esseri, ma anche da prima in realtà, è un'informazione che tende a colmare il terribile divario tra la nostra conoscenza etico e scientifica della nostra natura spirituale e la nostra molto avanzata scienza, soprattutto bellica, che usiamo in maniera responsabile perché abbiamo un'etica troppo bassa. Quindi tra la condizione etica del genere umano e soprattutto dei nostri governanti che sono tra l'altro i più corrotti e la scienza che noi possediamo c'è uno squilibrio spaventoso che può rendere inevitabile la scelta di usare l'arma atomica e quindi provocare la nostra estinzione massiva a causa delle irresponsabilità sia del popolo che dei governanti. Quindi loro ci dicono voi non avete bisogno di maggiore tecnologia o scienza, voi avete disperatamente bisogno della conoscenza nell'ambito delle scienze cosiddette sacre che sono la scienza che spiega la natura trascendente dell'essere umano e anche diciamo di varie leggi che governano la casa cosmica nella quale la terra è immersa. Quindi darci maggiore consapevolezza. Ciò che rende libero l'uomo e lo renderà libero non è un partito, ricordo anche che partito vuol dire diviso, partizione, partito vuol dire divisione. Quindi siccome noi siamo una umanità che è un sistema integrato col nostro pianeta noi non possiamo essere partiti, noi dobbiamo essere uniti, noi non dobbiamo competere, noi dobbiamo collaborare quindi dobbiamo traslare da una società competitiva a una società collaborativa. Non può un corpo umano rimanere in salute se il fegato lavora contro il cuore e il cuore lavora contro i polmoni. L'organismo per essere in salute deve essere un'armonia perfetta a livello psicologico, a livello biologico, eccetera, 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 deve essere tutto in equilibrio non ci può essere una parte del corpo che se ne va per i cavoli suoi, questo lo chiamiamo tumore Quando una parte del corpo incomincia ad andarsene per i cavoli suoi, lo chiamiamo tumore Questi messaggi di cui parlavi, di cui parli, a chi vengono indirizzati? A tutta l'umanità E attraverso quale, in quali maniere ci vengono indirizzati questi messaggi? I canali scelti sono vari, addirittura c'è un bellissimo cumulo di conoscenza che è stato fornito a un circolo medianico tra gli anni 50 e gli anni 70 che si trovava in Berlino che si chiama Circolo Medianico della Pace e sono messaggi di altissimo tenore etico, scientifico, sociale e cosmico. Io questi messaggi li distribuisco gratuitamente assieme ad altri testi provenienti dal mondo cosmico e divino per dare all'umanità, cioè ai miei simili, il valore più prezioso il bene più prezioso del bene della conoscenza e sono testi che ho studiato e che io applico e quindi ho anche l'opportunità di garantirne la genialità perché queste informazioni funzionano ti danno una maggiore capacità decisionale sulla tua vita e anche una maggiore capacità di comprendere il perché e il per come ci troviamo in questa gravissima situazione e anche delle soluzioni che ipoteticamente possiamo trovare forse per l'intera società ma se l'intera società rigetta almeno per la nostra vita e questo è possibile. Non c'è bisogno di raggiungere la conoscenza e la libertà in gruppo, lo si può fare anche da soli fortunatamente perché forse il gruppo non riusciremo mai a metterlo d'accordo. Quindi questi messaggi sono dati a persone disponibili che genericamente chiamiamo contattisti o contattati che poi si fanno carico della grande difficoltà di esporre al mondo un comunicato extraterrestre sapendo che il mondo condizionato com'è al ridicolo li sbefeggia e li emargina. Oggi fortunatamente la situazione è molto migliorata però chi si fa carico di questo convito ha sempre delle grandi difficoltà ma io comunque essendoci stati nella storia grandi contattisti che hanno comunque svolto egregiamente il loro lavoro come ad esempio il mio padre spirituale che è stato un grande contattista italiano Eugenio Siragusa e dopo di lui il suo diciamo così l'espressione più alta dell'opera di Eugenio che è stata Giorgio Bongiovanni grazie a questi messaggi provenienti dal mondo cosmico e divino ho potuto realmente riformare completamente la mia vita quindi questi testi li offro gratuitamente a chi me ne fa richiesta alla mail info-piergiorgio-caria.it perché così come sono stati utilissime per me ritengo che siano utili per tutti. Ma perché ci si dovrebbe avvicinare a queste notizie, a queste informazioni, a queste verità? Perché l'uomo, il cittadino dovrebbe cercare queste verità? Qual è la necessità? La necessità è che queste informazioni ci vengano da società molto più antiche che hanno vissuto moltissime le nostre stesse crisi evolutive e le hanno superate quindi avendole superate sono in grado di darci le risposte laddove oggi noi di risposte non riusciamo a trovarne o proprio non ci vengono date o peggio ancora ci vengono occultate e nascoste così per questo motivo viene occultato e nascosto il fenomeno della visita extraterrestre anzi direi non il fenomeno la realtà della visita extraterrestre perché il tenore di informazione che questi esseri ci portano farebbe cambiare il sistema e questo ci è stato detto persino da militari e da agenti segreti sia americani che russi che ci hanno detto il sistema non deve cambiare il sistema è in mano ai grandi super ricchi che di fatto hanno in mano tutte le leve del potere e della conoscenza di questo mondo quindi coloro che comandano non vogliono perdere i loro privilegi ecco quindi che si sono messi tutti d'accordo l'unica cosa su cui sono tutti d'accordo di occultare alla società civile la verità scientifica che siamo visitati e istruiti o tentano per lo meno di farlo da società extraterrestri molto ma molto più evolute di noi ribadisco società che hanno avuto le nostre stesse crisi di crescita che le hanno superate che hanno raggiunto un livello di conoscenza e di potenza anche tecnico scientifica strabiliante che permette loro di viaggiare tra le stelle e di venirci a dare una mano per evitarci rispettando il nostro libero arbitrio di arrivare a una catastrofe irreversibile ma perché il singolo quindi il vantaggio è la sopravvivenza ma perché per oggi il singolo dovrebbe cioè una volta che acquisisce queste nozioni una volta che diciamo incomincia ad apprezzarne la genuinità e magari anche si scopre una verità che forse è stata anzi non forse è stata completamente obelubilata fino ad ora io ne ho le prove certe Ugo sono 30 anni che faccio il ricercatore ho girato e giro il mondo ho avuto modo di entrare in tantissimi ambiti scientifici militari di intelligence politici eccetera eccetera e ho avuto le conferme davanti ai miei occhi davanti alle mie orecchie e toccate con mano che i potenti sanno ma nascondono e tergiversano e ingannano la società civile quindi non è un'ipotesi è un dato di fatto per me è un dato di fatto sicuramente io mi metto nei panni di chi ci sta ascoltando e che sente questi argomenti come se parlassimo di una formula ascetica in realtà noi stiamo dicendo cose che esistono e sono tanto vere tanto che ne parliamo con a meno tu ne parli con estrema cognizione di fatto allora Ugo ti faccio una domanda perché il singolo dovrebbe avvicinarsi a questa realtà? perché? il singolo secondo me dovrebbe intanto fare un esperimento quindi non accettare passivamente come dato di fede quello che io sto dicendo nonostante io sia un professionista della ricerca che tra l'altro ho realizzato vari documentari anche per la nostra tv nazionale quindi ho anche diciamo così l'accredito della mia professionalità in tal senso ma la persona non dovrebbe paralizzarsi in una ipotesi non sperimentata ma tanto secondo me non è così perché per dire secondo me uno dovrebbe avere delle competenze genericamente non le ha le competenze e quindi io chiederei alla persona ma tu lo sai perché abbiamo un debito pubblico quindi uno che non sa manco perché ha un debito pubblico e dopo dice secondo me gli UFO non esistono beh secondo me è un cretino è un totale demente ma dovrebbe avere forse se non sai la verità sugli UFO potrebbe teoricamente anche se secondo me non lo è non essere un problema ma il fatto che non conosci perché c'è un debito pubblico significa che hai fallito cioè se fallirai arriverà anche a casa tua il problema così come già arrivato a casa di tantissimi italiani è questo che dovrebbe stimolare la voglia di conoscere di conoscere la verità cioè dovrebbe essere stimolato a conoscere non solo la verità del debito pubblico ma anche un'altra verità quella nascosta come possiamo raggiungere questo singolo che è perso nella notte dei tempi dai problemi che questi signori ci danno dalle disinformazioni che ci danno il singolo il singolo Ugo è un individuo che è formato da una parte immanente che è il corpo e una parte trascendente che è lo spirito unite da un link da un'interfaccia che noi chiamiamo anima che realizza il magico la magica caratteristica di unire una parte inconoscibile a tutt'oggi che è lo spirito con una parte materiale che è il corpo se ci pensiamo in termini scientifici è una magia di cui non ci capiamo nulla come può un'entità spirituale essere legata ad un'entità materiale qualcuno me lo dovrebbe spiegare perché ancora questo scientificamente non è stato spiegato ma è evidente che esiste una scienza talmente straordinaria che è riuscita a realizzare un fatto tanto assurdo quindi se noi non sappiamo niente di tutto questo Ugo facciamo difficoltà dopo a gestire la nostra vita la nostra esistenza ma facciamo una difficoltà terribile quindi dovremmo avere delle competenze in tal senso e queste competenze chi le deve dare? queste competenze oggi deve cercarle da solo quindi siccome la parte trascendente spirituale soggiace essa stessa delle leggi quindi leggi scientifiche non leggi mistiche o leggi diciamo così di credo il soprannaturale Ugo non esiste non è mai esistito il soprannaturale esiste il naturale trascendente e il naturale immanente visto che coabitano e stanno insieme quindi noi siamo in mezzo a tutta una serie di parole che sono degli inganni dov'è il soprannaturale? tutto è natura è come se qualcuno mi dicesse l'hardware di un computer è scienza l'energia elettrica che è invisibile è un credo ma non è possibile è proprio l'energia elettrica invisibile che fa funzionare il computer grazie al fatto che noi ne abbiamo scoperto le leggi di come funziona l'energia elettrica quindi lo spirito soggiace delle leggi e la legge è cardine, universale, causa ed effetto quindi chi è che si avvicinerà e comprenderà queste verità e le cercherà Ugo chi ha svolto un cammino evolutivo nelle incarnazioni anche perché qualcuno potrebbe dirmi ma nel Vangelo il cattolicesimo non contempla la reincarnazione non lo contempla il cattolicesimo che è un'invenzione umana ma nel Vangelo la reincarnazione è descritta svariate volte soprattutto nel capitolo in cui si parla dell'incontro tra Gesù e Nicodemo che va a chiedere a Cristo proprio questo maestro come può un uomo diventato vecchio tornare nel ventre di sua madre e non è la nascita del battesimo si parla di nascita biologica e Cristo gli risponde te l'ho detto Nicodemo dovete rinascere di nuovo o in alcuni Vangeli dice dovete essere generati di nuovo ma non si sta parlando di spirito si sta parlando di corpo perché la domanda di Nicodemo è chiara come può un uomo diventato vecchio tornare nel ventre quindi nell'utero di sua madre quindi è una domanda specifica ma laddove noi le scritture non le conosciamo e pratichiamo una religione per sentito dire di tutto questo non comprendiamo nulla non ne abbiamo assolutamente non ne abbiamo le chiavi c'è un detto latino che dice Ugo che dice nil nisi clavis dest che significa nulla si trova senza la chiave quindi i latini la sapevano lunga su questa storia quindi bisogna bisogna avere il coraggio di quindi scusa sto terminando la risposta quindi chi ha sviluppato nell'arco delle sue varie incarnazioni una determinata sensibilità e una determinata sperimentazione positiva la legge di causa e effetto lo porta a incontrare una persona che finalmente gli dia la chiave per capire e per aprire quella porta questo accade niente avviene a caso la legge di causa e effetto prevede una condizione assolutamente certa e matematica di ciò che ci accade e ciò che ci accade è il perfetto risultato delle nostre scelte ergo delle nostre azioni quindi se una persona rigetta questa verità e dirà che io e te siamo due pazzi scatenati che dovremmo essere rinchiusi in manicomi è una persona che non ha mai fatto nessun tipo di sforzo per capire la vera realtà e la vera natura dell'essere umano chi invece l'ha sempre sentita dentro ma non la capiva quando incontra uno come me o come te o come altri che parla di queste cose dice cavolo finalmente ho capito ah grazie signore che ho incontrato qualcuno che mi ha permesso di comprendere questa cosa che mi si agitava dentro a cui io non riuscivo a dare spiegazione quindi il nostro compito Ugo è quello così come voi fate greggiamente attraverso la radio di fare il megafono di questa verità e aspettare che le persone pronte per essere risvegliate si avvicinino e se sono pronte si avvicineranno invariabilmente senza ombre di dubbio quindi bisognerebbe avere la preparazione la forza di rigettare i dogmi e di riformulare diciamo delle verità che fino ad ora non erano state dette insomma una propria verità allora io adesso parlo non al conduttore parlo all'amico Ugo Lombardi grazie e ti dico Ugo ma perché tu che sei un medico che sei un laureato che sei un professionista un bravissimo professionista hai cercato una risposta che andasse oltre perché dentro di te senza capirne il perché sentivi un disagio che non ti permetteva di sentirti in una zona di comfort all'interno di una società come la nostra e all'interno delle risposte che questa società ci dà su certe tematiche e quindi l'hai cercata l'hai cercata e siccome la tua ricerca era onesta e scaturiva da una storia di te stesso che tu disconosci perché non ti ricordi le tue precedenti incarnazioni ma tanto le avevi realizzate tanto erano potenti queste forze che si agitavano in te che ti hanno portato a trovare la risposta e a trovare finalmente la spiegazione di certe cose ecco questa quella la condizione che hai vissuto tu Ugo è esattamente quella che ho vissuto io cercavo di vivere secondo i parametri di questa società ma mi sentivo come uno che si è comprato le mutande di due taglie inferiori stavo sempre scomodo cercavo sempre di aggiustarmi ma stavo sempre male e quindi cercavo cercavo chiedevo e alla fine ho trovato Eugenio Siragusa poi Giorgio Bongiovanni ho fatto i miei studi ho investito il mio tempo il mio denaro e le mie forze in questa ricerca e la vita mi ha dato soddisfazione a dirtelo oggi dopo 30 anni Ugo oltre le mie più rose aspettative l'altro giorno ho avuto una specie di shock mi muovevo dentro casa da una stanza all'altra a un certo punto ho avuto una specie di non so se chiamarla una visione non è che ho visto con gli occhi fisici però di colpo mi sono visto io 30 anni fa e mi sono detto santo cielo ma ciò che io sono oggi non ha nessun riferimento con quello che io ero 30 anni fa e la trasformazione che è avvenuta in questi 30 anni grazie a queste conoscenze è inspiegabile a livello razionale non è possibile secondo il parametro comune che una persona subisca o abbia una trasformazione così radicale in pochi decenni è un fatto magico è un fatto che indica che ci sono che esiste un corpus di leggi di una tale potenza in grado di trasformare completamente l'essere umano che con il giusto sforzo e il giusto impegno si dedica a comprendere e a mettere in pratica queste verità queste forze quando tu remi secondo il senso della corrente non contro come fa l'umanità fanno miracoli sono magiche realizzano delle trasformazioni spaventose laddove tu vedevi solo buio di colpo si fa una luce chiarissima e il tuo occhio vede e il tuo orecchio ascolta e questo è meraviglioso è così meraviglioso Pier Giorgio che io diciamo sono naturalmente lo diciamo così in pubblico ai nostri ascoltatori sono naturalmente contentissimo di aver avuto l'onore il piacere di conoscere Pier Giorgio di conoscere Giorgio di conoscere voi in realtà hai detto bene sì la medicina non soddisfa quella che facciamo noi non dà risposte alle domande che ci poniamo e chi fa domande e i perché sono tantissimi se no avremmo smesso di farcene le domande se avessimo istruito i nostri perché parlando al medico posso dire Ugo quante persone in salute esistono nel mondo eppure sono infelici quindi se io sono in c'ho salute sto bene non sono infermo ma perché sono infelice quindi c'è qualcosa oltre il corpo che non sta bene perché non viene considerato questo quanto disagio interiore conosci tu come medico in corpi che sono perfettamente in salute io credo che ne conosci tanti certo e quindi c'è una risposta a cui la scienza medica non ha trovato una soluzione perché non contempla la parte più nobile dell'essere umano la parte sacra il Vangelo è un libro sacro non perché sia letto in una chiesa che sono quattro muri alla fine di pietra il Vangelo è sacro perché si occupa della parte divina della natura dell'essere umano che è lo spirito e intelligenza quello è sacro questo noi dobbiamo capire e quando lo spirito soffre vive un disagio interiore bisogna capire perché e la risposta non è nei credo è in una scienza che ti sa dare le corrette metodologie per arrivare alla serenità anche perché in questa società essere felice è davvero difficile per lo meno nella sofferenza per i mali del mondo possiamo comunque essere sereni io credo Ugo e non credo di essere blasfemo nel dire questo che il nostro Signore quando andava nel Calvario verso la croce non era tormentato era sereno pregava per gli altri non era una persona arrabbiata scontenta che malediva gli apostoli e i discepoli che lo avevano tradito che malediva i carnefici non ha detto forse Gesù perdona loro perché non sanno quello che fanno quindi si può soffrire ma allo stesso tempo si può essere sereni dentro ma dentro dove dov'è la serenità nel cuore nel cervello nel fegato nel rene dove sta sta felicità che tanto ci angustia che tanto cerchiamo perché non ce l'abbiamo sta da qualche parte e questa parte noi dovremmo finalmente comprendere che esiste e non è un credo è reale è naturale è naturale lo spirito ed è naturale il corpo non è sopranaturale lo spirito perché sopra la natura non ci può essere nulla bene come sempre le trasmissioni gli incontri con Pio Giorgio Caria sono incontri che fanno passare il tempo e non te ne accorgi ma non solo sono anche lezioni e ti ringraziamo di questo lezioni di vita grazie grazie per il fatto che ci sei ci sei tu e c'è Giorgio con noi grazie della tua presenza grazie che ci siamo perché io senza i miei fratelli non avrei nessun senso grazie grazie Pio Giorgio e mi raccomando tu dovrai mi devi lasciare la promessa che noi ci dovremmo risentire perché tu periodicamente sei nostro naturalmente mi piacerebbe perché c'è stato un personaggio secondo me illuminato che si chiamava Noam Chonsky che ha spiegato molto bene le dieci strategie del potere cioè quello che il potere usa attraverso i media per fare di noi dei deficienti incapaci di gestire la nostra società e sono strategie che vengono usate quotidianamente e che noi non conosciamo quindi queste strategie magari se ne potrebbe parlare possiamo parlarne in una prossima trasmissione certo assolutamente promesso la promessa è data grazie un carissimo abbraccio e ti auguro tantissimi auguri ma anche buon lavoro mi raccomando grazie a voi Ugo ricordo anche il mio canale youtube oltre a questi libri che distribuisco dove ci sono tantissime conferenze gratis invito a iscriversi così il canale si espande cioè la conoscenza che io divulgo che è Pier Giorgio Caria 59 su youtube bene un caro abbraccio a Pier Giorgio Caria e nuovamente lo ringraziamo per essere stato con noi e passo vedo che è in linea ehm Massimo Bonella e grazie di nuovo a voi Ugo grazie ai raggiossitatori un abbraccio eh Pier Giorgio Caria dicevo editorista di PentaOgitv.net Massimo un caro saluto anche a te e benvenuto hai delle notizie? Sì intanto una piccola correzione se mi permetti Pier Giorgio Caria documentarista reportaggista ricercatore eh io invece sono quello che hai prima detto appunto editorialista di Pianeto scusami no no prendiamo così un po' anche ero ero così ero così coinvolto negli argomenti offerti da da Pier Giorgio che non si può rimanere così confusi o perlomeno cercare di trovare lucidità le cose che ci dice Pier Giorgio ogni volta eh ci portano un po' di così di ci ci scioccano quindi bisogna eh poi riprendersi scusami di nuovo eh Massimo no no anzi è stato un piacere un attimo scambiare un po' un sorriso perché eh eh qua eh con le giornate sono sempre un po' così abbastanza eh di eh pressione insomma ora vediamo anche con questo nuovo governo cosa succederà insomma ce n'è sempre una tutti i giorni va beh insomma allora 19.27 diamo un attimo un'anticipazione alle notizie notizie di Istria oggi parleremo intanto andremo a fiume parleremo della eh dodicesima sessione ordinaria dell'assemblea dell'Unione italiana poi a seguire a Palud eh Sina eh convegno sulle minoranze linguistiche dell'Unione europea ricordo a Trieste seminari per i docenti della comunità nazionale degli italiani fiume i giganti della montagna del dramma italiano da qui poi avremo alcune brevi dall'Istria precisamente da Buie e da Capodistria 19.28 è tutto per l'anticipazione ti restituisco la linea a te Ugo Lombardi bene grazie Massimo Bonella editorialista di Penetà Oggi TV e Punto Net ehm ritorno do la linea al nostro regista Ugo Moreno per i saluti al network e per la chiusura di questa trasmissione a tutti i nostri ascoltatori grazie e a risentirci prego Ugo grazie Ugo per i saluti per la parola io mi accodo ai vostri saluti come direbbe anche Sayuz saluto quindi tutto il condominio di Radio Sayuz e ricordo l'appuntamento delle 22 sempre qui su Radio Sayuz di Osservatorio Antimafia con questo è tutto lascio al consueto proseguimento dei nostri programmi una buona serata arrivederci grazie a tutti 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 Grazie a tutti.